Sono stati arrestati i due giovani, un italiano e un albanese, che sabato sera a bordo del regionale Venezia Trieste avevano puntato una pistola contro un passeggero straniero intimandogli la consegna del denaro. Il fatto è accaduto mentre il convoglio giungeva a Monfalcone. I ragazzi volevano che l'uomo pagasse loro il biglietto. Il passeggero aveva detto che li avrebbe aiutati se fosse arrivato il controllore. I due sulle prime si erano allontanati, poi sono tornati all'attacco minacciandolo. Non avevano però fatto i conti con la reazione dell'uomo, che era riuscito a divincolarsi e rifugiarsi nella carrozza successiva, dove ha potuto contare sull'aiuto di numerosi passeggeri, uno dei quali ha avvertito la polizia. I due malviventi si sono fatti vivi nuovamente, rinnovando la richiesta di denaro, ma visto sia mai partito causa l'ennesimo rifiuto da parte dell'uomo e la presenza degli altri viaggiatori, si erano ritirati in fondo al treno. Arrivati a Trieste hanno trovato ad accogliergli la polfer e una volante della questura, che li hanno facilmente identificati. Perquisiti addosso ad uno di loro sono stati trovati un passemontagnanero e una pistola salve replica perfetta di un'arma in uso alle forze dell'ordine. La coppia deve rispondere di tentata rapina mano armata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.